ricerche del piccolo mattia trovato il corpo senza vita di un bambino attivisti imbrattano la sede della regione col fango dell'alluvione anche pesero in piazza per il clima con i fridays for future meno due alle urne ci sono 15 parlamentari marchigiani da eleggere VL a Villa Matarazzo si alza a livelli su squadra e stagione Buona serata a tutti voi pubblico di Rossini TV e ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione di Rossini News il nostro telegiornale che in questa edizione di venerdì 23 settembre apriamo purtroppo con una notizia tragica la notizia del ritrovamento del corpo di un bambino avvolto nel fango questo pomeriggio nel territorio comunale di Trecastelli pochi dubbi sul fatto che si tratta di Mattia Loconi 8 anni di San Lorenzo in campo che si stava cercando dopo 8 giorni bambino disperso proprio nell'alluvione il corpo è stato trovato appunto nel territorio di Trecastelli dove un uomo un agricoltore ha notato quel corpicino coperto di fango non lontano dal fiume Nevola il corpo è risultato essere in stato avanzato di decomposizione e servirà l'esame del DNA per confermare l'identità ma sebbano esserci pochi dubbi che si tratti di Mattia una notizia che fa salire a 12 le vittime dell'alluvione mentre si cerca ancora la 56enne dispersa Brunella Q e questo venerdì 23 settembre è stata anche una data contrassegnata dai Fridays for Future per gli scioperi del clima che questa mattina ad Ancona si sono caricati di rabbia con tanto di imbrattamenti alla sede della regione Marche imbrattamenti proprio col fango dell'alluvione Noi sporchi di fango, voi sporchi di sangue Una frase e un'accusa forti divenuti un coro e uno slogan su striscione risuonati questa mattina di fronte a Palazzo Raffaello, sede della regione Marche Oggi 23 settembre è infatti il venerdì dei Fridays for Future ovvero gli scioperi del clima ideati da Greta Thunberg Un presidio a contrasto ai cambimenti climatici che nella città di Ancona si è tramutato in una manifestazione che ha radunato attivisti di ogni genere Manifestanti che hanno riversato la loro rabbia verso l'amministrazione della regione Marche Una regione che a dire degli attivisti avrebbe responsabilità e negligenze pesanti nella mancata prevenzione verso una catastrofe ambientale tramutatasi in una tragedia che ha lasciato dietro di sé 11 vittime Un gruppo di manifestanti ha infatti raccolto fango nei luoghi alluvionati di Senigallia per poi rovesciarli sulle scale dell'accesso al palazzo della regione Sono state pure imbrattate le pareti dell'edificio con la melma usata anche come inchiostro per epiteti offensivi L'amministrazione ha già presentato un esposto alla procura di Ancona per gli episodi di deturpazione avvenuti questa mattina Regione nel Mirino ma giunta regionale che oggi ha deliberato la costituzione di un fondo straordinario di 4 milioni e 200 mila euro per il sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dall'alluvione Si tratta di fondi regionali condivisi con la Camera di Commercio delle Marche che ha messo a disposizione un milione di euro Il contributo sarà garantito da confidi su finanziamento bancario a sostegno della liquidità per sanare i danni subiti dall'alluvione e per riaprire le attività Potranno richiederlo le piccole e medie imprese fino a 250 addetti e 50 milioni di fatturato o 43 milioni di attivo Il finanziamento bancario massimo sarà di 150 mila euro con durata di 8 anni E come ad Ancona anche a Pesero questa mattina sono tornati a manifestare i ragazzi dei Fridays for Future Per uno sciopero del clima avvenuto in un clima di partecipazione ma senza le tensioni che si sono registrate ad Ancona e che vi abbiamo mostrato poco fa Slogan incisivi su cartelloni, bandiere al vento e partecipazione Sono tornati i Fridays for Future, sono tornati gli scioperi globali del clima lanciati qualche anno fa a livello planetario da Greta Thunberg che si traducono in tante manifestazioni a livello locale La città di Pesero oggi in questo venerdì 23 settembre è stata una di queste una delle 70 città italiane che hanno aderito a questo sciopero per il clima con ragazzi che si sono ritrovati alla Palla di Pomodoro in Piazzale della Libertà per esternare tutta la loro preoccupazione per i cambiamenti climatici per l'assenza di azioni in questa direzione ed è un Fridays for Future molto particolare perché arriva a pochi giorni dalla tragedia della catastrofe ambientale alluvionale nelle Marche che è stato un promemoria evidente per quelli che sono gli effetti climatici e anche a pochi giorni dalle elezioni Sicuramente il fatto che tra l'altro per caso sia capitato il 23, due giorni prima delle elezioni e che si sia stato organizzato proprio durante questo periodo in cui le Marche hanno subito devastanti conseguenze della crisi climatica significa tantissimo per noi e speriamo che proprio grazie a questa situazione riusciremo a sensibilizzare di più al riguardo L'altra volta, anche questa volta, abbiamo chiesto e chiediamo e chiederemo azioni ai governi ma soprattutto vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica ora di azioni individuali per risolvere il problema ce ne sono tante ma il 25 i cittadini faranno quella più importante forse nei paesi democratici cioè il voto e noi chiediamo che questo problema, il problema non ambientale venga considerato come uno dei problemi più importanti del momento La maggior parte dei ragazzi coinvolti oggi sono delle scuole superiori molti dei quali minorenni non andranno a votare ma questo non toglie come questo momento possa essere un promemoria importante per rivedere le scale delle priorità elettorali in vista del prossimo governo Ritengo che comunque i giovani abbiano il compito di svegliare anche gli adulti che non ritengono che questi problemi siano importanti e quindi anche se non votate venite in piazza e protestate perché la classe politica si occupi di queste questioni importanti Non solo ragazzi delle scuole superiori al fianco degli studenti anche l'amministrazione comunale di Pesero la CGL e le associazioni la Onlus Gulliver, la Lupus in Fabula e Greenpeace Ora più che mai l'unione fa la forza abbiamo contattato varia gente e non ci aspettavamo un riscontro così positivo al riguardo soprattutto il fatto che condividano Gianni Delia in prima persona famoso poeta e letterato della nostra città condivida in modo così profondo i nostri ideali Perché è tornata la piazza ragazza su tutta la terra e senza confini di nuovo a invadere verde di rabbia il mondo salvato dai ragazzini I versi di Gianni Delia sono stati il sottofondo poetico a questa edizione dei Fridays for Future Delia che ha letto la poesia al suon di lei è nata proprio tre anni fa d'ispirazione al Fridays for Future di tre anni or sono con questi temi con queste sonorità che sono state tradotte in versi Passando per la piazza il 15 marzo del 2019 arrivando con la bicicletta da via Branca per arrivare in piazza ho sentito questo rombo con i tamburi e questo slogan questo slogan mi sembrava una lingua infatti era latino quo usque tandem abutere pazienza nostra che sarebbe una della catilinaria di Cicerone e quindi è fino a quando abuserete della nostra pazienza sono venuto qui appunto a leggere questi testi che sono nati da quell'incontro cioè l'incontro tra la voce della lotta e poi andando giù al mare la voce della primavera la voce del mare tra una voce suave e una voce energica per una poesia che parli appunto della pace della salvaguardia appunto della terra e della salvezza della terra ecco questo è il nostro problema quindi penso che il nostro problema oggi sia proprio quello di siamo qui per la pace e soprattutto per trovare un cervello nuovo come dice Baudelaire un cervello nuovo che sia in grado di evitare che ancora l'uomo pensi che a livello individuale o a livello di stati si possa risolvere con la violenza e con la guerra qualsiasi questione mancano meno di 48 ore all'apertura delle urne delle elezioni politiche al Parlamento e in questo nostro servizio riepiloghiamo come si presenteranno le schede elettorali in mano ai cittadini marchigiani con quali simboli di partito e con quali candidati dalle 7 alle 23 di domenica 25 settembre si vota per il rinnovo della camera dei deputati e del senato i marchigiani che si presenteranno alle urne potranno eleggere 10 deputati e 5 senatori della loro regione votando non solo le coalizioni di centrodestra e centrosinistra ma anche la ventina di movimenti, partiti e liste che compongono queste elezioni al Parlamento ecco i candidati che troverete nelle schede elettorali per quel che riguarda i collegi uninominali di Pesaro Urbino alla Camera e delle province di Pesaro Ancona al Senato oltre agli annessi capolista dei listini proporzionali cominciamo dalla coalizione di centrosinistra che presenta Giordano Masini di Pio Europa all'uninominale alla Camera e Marco Bentivogli all'uninominale al Senato al plurinominale la coalizione si dirama col Partito Democratico che ha Irene Manzi capolista alla Camera e Alberto Lossacco al Senato Alleanza Verdi-Sinistra con Luisa Serroni e Caterina Di Bitonto Impegno Civico con Di Maio che schiera Patrizia Terzoni e Primo Di Nicola Pio Europa con Mattia Morbidoni e Pierpaolo Loffreda La coalizione di centrodestra all'assessore Mirko Carloni della Lega candidato all'uninominale alla Camera e Antonio De Poli della lista Noi Moderati al Senato Al plurinominale la coalizione si dirama con Noi Moderati che presenta Giulia Marchionni capolista alla Camera e Tablino Campanelli al Senato Forza Italia con capolista Valentina Vezzali e Jessica Marcozzi Fratelli d'Italia con Lucia Albano alla Camera e Guido Castelli al Senato La Lega con Riccardo Augusto Marchetti alla Camera e Mauro Lucentini al Senato Il terzo polo di calenda presenta all'uninominale Federico Talè di Italia Viva Elena Fabri di Azione mentre al plurinominale Tommaso Fagioli di Azione e Fabio Urbinati di Italia Viva Il Movimento 5 Stelle si presenta all'uninominale con Rossella Cotto alla Camera e Samuela Melini al Senato Al plurinominale i capolista sono Giorgio Fede e Roberto Cataldi E ancora Unione Popolare con De Magistris che si presenta all'uninominale con Renzo Savelli alla Camera e Marco Bini al Senato E al plurinominale con Arianna Buda e Davide Fior del Mondo Il Partito Comunista Italiano si presenta con Chiara Pizzorna all'uninominale alla Camera e Stefania Settimi al Senato Al plurinominale capolista Roberta Coletta e Patrizia Serafini Il Partito Vita presenta all'uninominale Alessio Canalini alla Camera e Marco Palanchi al Senato Al plurinominale capolista Davide Barilari e Chiara Falcioni Italia Sovrane Popolare propone all'uninominale Dali Borchvegic alla Camera e Paola Raponi al Senato Mentre al plurinominale Marco Rizzo e Fabio Pasquinelli Italexit di Gianluigi Paragone all'uninominale avrà Stefano Puzzer alla Camera e Emanuela Merli al Senato Mentre al plurinominale capolista Massimo Gianangeli e Enzo Palladino Alternativa per l'Italia si candida all'uninominale con Lorena Narcisi alla Camera e Gabriele Cinti al Senato Al plurinominale capolista Fabio Sebastianelli e Cristiana Di Stefano E dopo questa lunga rosa di partite candidati andiamo anche a vedere in modo pratico Quali sono le modalità in cui gli elettori dovranno esprimere il loro voto sulle schede Domenica 25 settembre dalle 7 alle 23 circa 50 milioni di italiani saranno impegnati nelle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica Per il voto sarà necessario essere maggiorenni e in virtù di una legge sul taglio dei parlamentari da 945 a 600 Nelle Marche le elezioni si sono ridotte a 10 deputati a cospetto dei 16 della precedente tornata elettorale E a 5 senatori contro gli 8 elegibili nelle ultime elezioni del 2018 Prima di recarsi nei seggi elettorali però non è importante capire solamente chi votare ma anche in che modo farlo Per prima cosa ogni elettore dovrà presentarsi con un documento di identità e la tessera elettorale Tessera elettorale che si potrà ritirare presso gli uffici comunali che rimarranno aperti anche domenica 25 settembre Dopodiché ad ogni elettore gli verranno consegnate due schede Una gialla per il Senato e una rosa per la Camera con una sola X da barrare per scheda Il voto per i partiti che non hanno formato alcuna coalizione si esprime tracciando un simbolo sul segno del partito Con il voto che andrà al candidato del collegio uninominale e alla lista plurinominale del partito stesso Il voto invece ai partiti che hanno formato una coalizione si esprime tracciando una X o sul nome del candidato al collegio uninominale Che a quel punto viene anche distribuito proporzionalmente tra i diversi partiti alleati Mentre se si traccia un segno sul singolo partito della coalizione e non al candidato uninominale Si voterebbe per la coalizione stessa ma sostenendo solamente il collegio plurinominale appartenente al partito selezionato Non è possibile il voto disgiunto ovvero tracciare il segno su una lista e sul nome di un candidato di un'altra lista Sulle schede elettorali non è assolutamente possibile scrivere nulla e per la prima volta per votare i senatori sarà sufficiente avere 18 anni e non più 25 Dolore e incredulità a Pesaro per la morte a soli 45 anni di Barbara Pifferi, pesarese residente a Villa San Martino La donna è stata trovata morta ieri nella sua casa di strada a Borgeria e secondo i primi riscontri il decesso sembrerebbe determinato da cause naturali Cambiamo argomento e cambiamo territorio, prende sempre più forma la ciclovia del Metauro Dopo che ieri è stato siglato un accordo per il progetto di ciclabile che legherà Fano a Cartoceto e che commentiamo proprio con il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi Abbiamo avviato la fase preliminare di tutto l'iter amministrativo che condurrà all'affidamento dei lavori per la realizzazione del primo tratto della nuova ciclovia turistica del Metauro Abbiamo appunto visionato questo schema di accordo di programma che entrambe le giunte comunali dei comuni di Fano e Cartoceto dovranno ora approvare da parte delle rispettive giunte e poi decorsi quelli che sono i termini canonici di pubblicazione, i consigli comunali sempre dei comuni di Fano e di Cartoceto dovranno approvarlo costituendo questo passaggio anche l'approvazione delle varianti sostanziali ai piani regolatori A quel punto i comuni potranno notificare i decreti di sproprio e così la Regione Marche di Contro potrà bandire la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori Un inter amministrativo abbastanza articolato ma che speriamo e stiamo lavorando tutti per questo Regione Marche ovviamente che ringrazio per aver deciso comunque in attesa di avere ulteriori risorse a disposizione per poter estendere ulteriormente per ciò che riguarda la provincia di Pesurbino il tratto della ciclovia comunque di partire con questo primo tratto Fano-Cartoceto, la provincia di Pesurbino e ovviamente i due comuni dicevo che auspicabilmente tutti cercheremo di fare la nostra parte per arrivare quanto prima a questo risultato che garantirà da un lato una maggior sostenibilità nella mobilità del nostro territorio dall'altra parte di far muovere famiglie e cittadini nella massima sicurezza tra costa e dentro terra e sicuramente anche di inserirci con più forza all'interno dei circuiti del cicloturismo Compie dieci anni il festival del giornalismo culturale che si terrà ad Urbino dal 7 al 9 ottobre Dal web alla terza, la vita della cultura nel mare della rete è questo il focus del festival di quest'anno che si concentrerà sul passaggio dalla carta stampata allo smartphone come mezzo per fruire tutto ciò che è cultura Sarà anche quest'anno il Salone del Trono del Palazzo Ducale ad accogliere venerdì 7 ottobre il pubblico e gli ospiti a cominciare da Gianrico Carofiglio che alle 15.30 atterrà l'Alexio Magistralis Le parole sono pistole cariche E sabato 24 settembre, domani alle ore 21.15 appuntamento al Teatro Sperimentale di Pesero con lo spettacolo Soundfield de Luce, una performance che fonde la grande musica al vernacolo pesarese Si tratta di un vero e proprio concerto in dialetto con nove brani composti dal direttore del Conservatorio Rossini Fabio Masini accompagnato dalle poesie di Carlo Pagnini Uno spettacolo che nasce dalla collaborazione tra i Lions Club Pesero e la Fondazione Cassa di Risparmio per il quale si potrà acquistare il biglietto presso il Teatro Sperimentale fino all'inizio dell'evento Procede il restyling del lungomare di Pesero con lavori a tappe Dopo le balauste della palla di pomodoro sostituite durante il periodo primaverile in quest'autunno si sta per procedere alla nuova perimetrazione del moletto che dà il via al lungomare di Ponente E passiamo allo sport È stata la cornice di Villa Matarazzo ad ospitare ieri sera la presentazione della nuova squadra della Carpegna Prosciutto Pesero in vista della nuova stagione che vedrà gli uomini di Coach Repesa debuttare sul campo di Trieste il prossimo 2 ottobre In questo servizio andiamo ad ascoltare alcuni dei protagonisti della squadra, della società e proprio di questa serata Siamo a due settimane dall'inizio del campionato, come sta proseguendo la preparazione dei ragazzi? Ma direi bene, tutto sta funzionando bene, soprattutto non abbiamo avuto nessun tipo di inconveniente Questo è già un gran risultato, bisogna fare i scongiuri però perché ancora manca qualche giorno Siamo pronti o meglio stiamo preparandoci, credo che la strada sia molto lunga e anche in salita Però ci stiamo preparando bene E le amichevoli stanno andando anche dei buoni risultati? Ma direi di sì, direi che le amichevoli che abbiamo fatto, al di là delle vittorie Anche e soprattutto del bel gioco, già una fisionomia della squadra E questa è sempre molto importante perché chiaramente deve essere il motivo importante della nostra stagione Cioè dare un'identità ben precisa alla squadra Partire col piede giusto su un campo tra l'altro, che poi è sempre abbastanza difficile Sarebbe importantissimo, ci proveremo, saremo pronti Coach Repesa, siamo a due settimane dall'inizio del campionato Come sta proseguendo la preparazione dei ragazzi? Ma sai, come direbbe ogni allenatore, ci manca una settimana di più o due settimane di più Ma siamo messi così tutti uguali, sai Abbiamo fatto buon pre-campionato, abbiamo fatto buon ritiro Andando piano piano, per fortuna abbiamo avuto quasi tutta la squadra da primo giorno insieme Mancava solo Carlos Delfino che è tornato l'altro ieri E dovrebbe cominciare a lunedì con la squadra, con allenamenti, con lavoro Tutti gli altri, per fortuna, nessuno si è fatto male durante il ritiro Hanno fatto tutti e tutti gli allenamenti, tutte le richieste che abbiamo avuto Hanno giocato tutte e tutte le partite Da questo punto di vista potrei essere veramente soddisfatto Da punto di vista tattico siamo un po' indietro Ma questo è normale perché un nuovo gruppo con tanti giocatori nuovi ci vuole pazienza Con parecchi giocatori giovani ci vuole pazienza Prima di tutto assorbire le cose più base E dopo piano piano costruire il completo sistema di gioco Che ambiente hai ritrovato a Pesaro? Nonostante come lasciato, uguale Bello dove si respira basket 24 ore Dove si respira basket dentro la città, sulla spiaggia Una città di basket Nuovissime emozioni con una squadra nuova Fortunatamente, lo dico personalmente, è tornato a guidare questa squadra Uno dei migliori coach che ci sono in questo campionato Credo che le sue capacità abbiano dimostrato in questo precampionato Che nonostante la squadra sia nuova Però i giocatori sono stati scelti bene, con testa E abbiamo visto un buon gioco finora Le aspettative magari sono anche leggermente cresciute E' importante partire bene da subito Anche per arrivare nelle Final 8 magari Sicuramente è il format delle Final 8 È un format che favorisce magari una squadra come noi Magari una squadra un po' più corta Un po' più imprevedibile in questi scontri diretti Che può dire la sua E sono convinto che ci sarà da divertirsi sicuramente fino alle Final 8 Senza però perdere come obiettivo Di concludere bene anche la fine del campionato Quest'anno è un gruppo molto molto compatto Sin dai primi giorni di allenamento Quindi sicuramente è un buon segno Ci sono ancora tante cose da lavorare Però c'è molta voglia di stare in palestra Quindi sono tutti segnali molto incoraggianti Per far sì che sia appunto un'ottima stagione Quindi lavoreremo perché sia un'ottima stagione Però ripeto i segnali sono davvero incoraggianti Due anni fa non vestivi la maglia della VL Non hai avuto il coach Reppe già come allenatore Come ti è sembrato? È tosto? Sì è tosto È un ottimo allenatore molto preparato Mi piace un sacco stare in palestra E ascoltare consigli O comunque essere allenato da uno del suo calibro Insomma il suo zampino si vede Stiamo facendo un ottimo precampionato Gli allenamenti sono molto intensi Secondo me ci sarà da divertirsi È una tradizione che si rinnova NTS Informatica e Ranocchi Software Ormai sono partner storici gold della VL È stato un anno Veniamo da un anno interessante, divertente Dove ci siamo presi delle soddisfazioni L'anno precedente lo è stato lo stesso Speriamo che lo sia anche quest'anno Noi siamo sempre al fianco dei nostri amici della VL Di tutti i tifosi Ecco prima hai augurato ai giocatori una grande stagione Playoff oppure Final 8 Un grande entusiasmo anche dalla famiglia Ranocchi Per questa nuova stagione Assolutamente Un grandissimo in bocca al lupo Da parte nostra Ed è un onore avervi nuovamente qui Per la presentazione dei ragazzi della squadra Vedo delle facce giovani, sorridenti, determinate Che ci faranno sognare tanto quest'anno Quindi l'obiettivo è veramente una stagione al massimo E la nostra famiglia, la città Tutti quanti saremo presenti al palazzetto A tifare sempre per questa grande squadra E se per la VL la partenza della stagione è per il 2 ottobre Per la Vispesero è già vigilia della quinta giornata di campionato Quando domani pomeriggio arriverà l'Ancona allo stadio Benelli Vis che affronta questo derby galvanizzato ad avere tre punti in più in classifica Dell'Ancona e grazie agli otto punti ottenuti nelle prime quattro giornate Fischio d'inizio domani alle 17.30 E sempre domani pomeriggio ma alle 18.30 Debuto stagionale dell'Ital Service sul campo delle Futsal Pescara I ragazzi di Mister Colini, campioni in carica, si apprestano ad affrontare un campionato diverso Con una rosa rivoluzionata visto il cambiamento di alcuni regolamenti imposti dalla divisione Calcio A5 E dopo due anni di stop per pandemia questa domenica torna anche la sesta edizione dell'evento ciclistico Panterissima L'appuntamento di domenica è praticamente la sesta Panterissima Ci associamo ad altri gruppi sportivi e creiamo questo circuito che all'epoca si chiamava pedalando tra mari e colline Ogni società sportiva doveva studiare un percorso adatto per far conoscere le bellezze del proprio territorio E coinvolgere tutti gli altri ciclisti della provincia e fuori provincia E poi lo stop purtroppo della pandemia, i due anni ci hanno fermato e quindi non siamo riusciti ad organizzare più niente Quest'anno cerchiamo di ritornare alla grande perché oltre alla manifestazione non competitiva che è la Mediofondo Abbiamo organizzato una cronoscalata che si chiamerà Primo Trofeo San Bartolo La cronoscalata praticamente è una gara in salita che parte da un certo punto della panoramica per arrivare fino alla piazzola di Gibas Nella quale i ciclisti partono e danno il massimo che possono dare Mentre la Mediofondo è un circuito che sono circa 80 km, quasi mille metri di dislivello E passa, attraversa diciamo tutta la panoramica fino a Gabicce e si inoltre verso il territorio, diciamo verso l'interno Fino a toccare Monbaroccio e poi ritornare Poi alla fine della manifestazione sia i ciclisti della cronoscalata che quelli che hanno partecipato al Mediofondo Si ritroveranno tutti insieme in Piazza Europa dove abbiamo allestito dei piccoli stand e un pasta party per tutti i partecipanti Siamo un gruppo di donne che si sono costituite nel 2010 All'inizio facevamo altro però l'obiettivo principale era comunque lo sport Magari uno va in palestra, fa altro così E quindi ci siamo messe insieme, abbiamo iniziato piano piano con la bicicletta Poi ci siamo resi conto che comunque la bicicletta è sport Ci tiene l'adrenalina che ci carica e tutto quanto Abbiamo iniziato poche, poi molte Poi abbiamo iniziato a fare delle manifestazioni più semplici, un po' più impegnative E direi che questa volta con la pantirissima e la cronoscalata abbiamo proprio toccato il massimo Ci sono giovani, meno giovani, più giovani, anche persone di 80 anni Che comunque vanno in bicicletta, fanno quello che riescono a fare, il fisico va bene Penso che non ci sia stata squadra, almeno così ci riferisce l'Axi Che sia riuscita ad organizzare una competizione amatoriale così impegnativa E si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News Vi ricordiamo qualche appuntamento sulla nostra emittente, sul nostro canale 80 A cominciare dalla nostra prima serata dedicata al teatro dialettale Questa sera la piccola ribalta vi porta a divertire e a coinvolgere con lo spettacolo La commedia Tre Bzarese in Paradis, appuntamento alle 21.20 Domani giorno del patrono Sant'Erenzio, ma andrà in onda regolarmente come ogni sabato La nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini Rassegna che per l'occasione sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi Come sempre in diretta dalle 7.20 Sant'Erenzio che però verrà celebrato anche in diretta con la funzione religiosa delle ore 18 La solennità di Sant'Erenzio con la Santa Messa in diretta dal Duomo di Pesaro E poi vi ricordiamo anche Rossini News Week Il meglio diciamo di questi nostri notiziari che vi trasmettiamo dal lunedì al venerdì Lo potete rivedere anche al sabato e alla domenica con le notizie della settimana Che vanno in onda sabato alle 19.30 E domenica alle 6.30 di mattina, alle 12.30 e alle 22 Ed è davvero tutto per questa edizione Vi ringrazio per averci seguito E vi auguro una buona serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi